Qual è la storia dell'anemia falciforme? Mentre è probabile che l'anemia falciforme, una condizione genetica che causa la normalità dei globuli rossi, sia esistita da millenni, la storia della conoscenza scientifica della condizione è iniziata relativamente di recente. In questo senso, la storia dell'anemia falciforme è iniziata nel 1910, quando la condizione fu identificata per la prima volta da ricercatori medici. Nei decenni successivi, i ricercatori hanno ampliato la loro comprensione della condizione, scoprendo, ad esempio, la sua relazione con l'ossigeno, la genetica e l'emoglobina. All'inizio del XXI gradi secolo, la storia dell'anemia falciforme continua a essere scritta mentre gli esperti medici cercano trattamenti e persino cure per la condizione. L'anemia falciforme è un'anomalia dell'emoglobina, una proteina che si trova nei globuli rossi e che è responsabile del trasporto di ossigeno in tutto il corpo. La struttura anormale dell'emoglobina in quelle con la condizione fa sì che i globuli rossi rotondi normalmente assumano una forma a mezzaluna. A loro volta, queste cellule deformate possono causare una serie di problemi. Possono essere alloggiati nei vasi sanguigni, causando dolore da moderato a severo, e tendono anche a disintegrarsi molto più rapidamente dei normali globuli rossi, portando a un sangue a basso contenuto di ossigeno. L'anemia falciforme genetica si manifesta solo in coloro che hanno ereditato il tratto falciforme di entrambi i genitori. Le persone indiane, mediorientali e mediterranei possono soffrire di anemia falciforme, ma spesso colpisce quelle di origine africana. In effetti, molte lingue tribali africane hanno una parola per la condizione, suggerendo che esiste da molte generazioni. Le sue cause rimarrebbero sconosciute fino all'inizio dell'X secolo. La storia medica dell'anemia falciforme è iniziata nel 1910, quando un medico americano di nome James Eric ha utilizzato un microscopio per studiare le cellule del sangue di un uomo caraibico che stava vivendo dolori muscolari e letargia. Il dottor Eric scoprì che i globuli rossi dell'uomo mostravano una forma anomala. Quando pubblicò le sue scoperte, si riferì alle cellule come a forma di falce, dando così alla condizione il suo nome. Nei decenni successivi alla scoperta del dottor Eric, i ricercatori hanno iniziato a ricostruire la patologia della malattia. Un gruppo di medici ha stabilito che la condizione ha causato bassi livelli di ossigeno nel sangue nel 1927, mentre due ricercatori separati hanno pubblicato lavori che hanno dimostrato di essere ereditari nel 1949. Due scienziati, il dottor Linus Pauling e il dottor Harvey Itano, hanno stabilito nel 1951 che una normalità dell'emoglobina è responsabile della forma falce dei globuli rossi. Dalla metà del XX secolo in poi, la storia dell'anemia falciforme coinvolge in gran parte la ricerca di trattamenti efficaci e cure per la condizione. Negli anni Ottanta si scoprì che si poteva avere una cura con un trapianto di midollo osseo, che sostituisce le cellule anormali con normali globuli rossi. Poiché questa procedura è estremamente invasiva e potrebbe non avere successo, tuttavia, gli scienziati continuano a cercare una cura soddisfacente. Nel 1995, i ricercatori hanno scoperto che un farmaco chiamato idrossiurea potrebbe ridurre significativamente il dolore spesso associato alla malattia.